ben ritrovati a una nuova puntata di parla con me la radio che va in tv quest'oggi ho il piacere di avere studio un ospite che di radio se ne intende e anche molto il conduttore di due approfondimenti che vanno in onda su radio special radio locale di milazzo dal titolo coffeine e cocaine giusto vincenzo esatto appunto vincenzo carcione buonasera vincenzo salve ciao ben ritrovati a tutti gli spettatori di telespazio come trovarsi dalla radio alla televisione subito partiamo così per rompere il ghiaccio è un bel passaggio un bel salto di qualità caffeine e cocaine o prima cocaine e poi caffeine ma guarda vanno a braccetto e cosa tratti queste due questi due approfondimenti vanno a braccetto sono due programmi di musica dance ovviamente un ambito prettamente clubbing un due approfondimenti di due trasmissioni che vogliono essere un punto di riferimento per la musica di tendenza in italia e comunque anche nel mondo perché ho sempre avuto questa passione per la musica e da anni mi conosci forse da poco però in verità da tantissimi anni sono su radio splash sono andato da bambino e appena entrato in studio mi sono letteralmente innamorato di tutta la strumentazione di uno studio di una radio un amore a prima vista mi verrebbe da dire assolutamente vedo che questa cosa è condivisa anche da te sì sì assolutamente comunque non solo speaker radiofonico ma anche dj sì sì tu sei presente nelle diciamo nella vita notturna quella che è la vita notturna di milazzo bene e questo tuo approccio musicale diciamo il tuo essere di gelo colleghi al tuo essere uno speaker radiofonico cioè le colleghi le due cose assolutamente assolutamente sì diciamo che la radio è lo strumento portante per poter farsi conoscere e per poter avere la possibilità di suonare in giro perché quando vado in giro nel propormi tra i locali nelle location che mi ospitano la uno dei servizi tra i tanti servizi che ho connesso per la mia attività è quello proprio di effettuare se il titolare del della location della struttura lo desidera anche una diretta radio quindi se è un servizio che può interessare sono lì pronto a eventualmente fare una diretta o eventualmente a registrare il dj set e poi menzionare la la struttura la location e mandarlo poi on demand sulla sull'fm ho capito e spiegami questa tua anzi no spiegami raccontami fammi una cronistoria cioè tu sei arrivato hai visto un uno studio radiofonico per la prima volta e poi come proseguito perché comunque ce ne c'è il tempo ci vuole poco fa a telecamera spente un po' mi hai detto che per arrivare dove sei tu ora alla conduzione di approfondimenti comunque diventare un dj piuttosto conosciuto qua in zona perché non perché per fare diciamo la solita leccata ma non ho proprio bisogno di ruffiano ecco non voglio ruffiano stasera sono io che ti suggerisco i termini è questo gisim perché non lo sanno ma non tanto tempo quando sarà stato un mesetto fa io sono venuto ovviamente invitato da vincenzo nei suoi studi gli studi di radio space all'interno del suo approfondimento e ci siamo divertiti dall'altro è stata una cosa totalmente improvvisata cioè siamo arrivati là non c'era un programma c'è niente pensate che io non avevo preparato le domande e abbiamo fatto io in genere in caffeine faccio delle interviste a degli ospiti che ovviamente seleziono accuratamente settimanalmente quella settimana si era liberato uno spazio ho chiamato te emilio non avevo preparato le domande come faccio in maniera molto organizzata con tutti e se è stato te che hai fatto le domande a me sì diciamo che è stato proprio una non plus oltre della dell'improvvisazione ecco perché alla fine se possiamo dire ma è come se fossimo studi a parlare un po come ora più o meno io non io ci avrei una scaletta ma non è che tante volte la seguo beh guarda io credo che comunque la spontaneità è uno dei seno dei sinonimi della riuscita di un qualsiasi cosa perché quante volte anche tra gli amici quando si vanno a programmare scampagnate mangiate e quant'altro poi le cose riescono un po blande un po così invece quando non li programmi escono fuori delle gran giornate delle gran seratone no sì come si dice in gergo le cose non programmate poi alla fine funzionano riescono e riescono anche bene comunque ti avevo fatto una domanda poi mi sono dilungato in altri e lo so l'ho percepito ma adesso ti rispondo facciamo facciamo come dice carlo lucarelli torniamo indietro quindi la cronistoria vincenzo e poi allora io in sostanza ascolto musica sin da bambino comincio a frequentare da adolescente i club dell'epoca ne potrei citare tanti chi non conosce le cupole ecco lido azzurro insomma tutti i club chiamiamoli così dei tempi e da allora comincio realmente in maniera concreta ad interessarmi alla musica tant'è che mi comincio ad appassionare e comincio a sentire la radio figurati che radio dj qui ancora non arrivava quindi siamo nella metà degli anni 80 ed io comincio a invagirmi in una maniera devastante di questo mondo della musica delle trasmissioni delle cassette delle cassettine andavo a comprare le cassettine e registravo le canzoni alla radio come ogni dj che si rispetti dei tempi mixavo con una piastra a doppia cassetta con due cassette una cosa guarda impressionante che ricordo con particolare emozione poi da lì niente tempo passa e un giorno approdo a radio splash dove ho avuto il piacere di conoscere fortunato grasso il direttore il titolare di radio splash una persona che poi nel tempo è diventata un buon grande amico e che ho mi permetto di salutare ma ci mancherebbe altro e che devo ammettere ha sempre creduto in me tutt'oggi però siamo qui negli anni 90 poi in verità io mi concentro perché ancora andava a scuola comincia poi il periodo del militare faccio dei lavoretti in giro di altro tipo finché per vie traverse rincontro fortunato grasso all'incirca nei primi anni 2000 2001 2002 a causa di amicizie in comune per il fatto che lavoravo da un tizio che poi ha chiesto della pubblicità alla radio e quindi fortunato è andato a proporsi per poi proporre appunto a sua volta degli spot per quel tipo di attività da lì mi si è riaccesa questa lampadina che per anni è stata dormiente ma comunque sempre vigile perché ho sempre attenzionato la musica la radio e tutto il mondo del del broadcasting con particolare dedizione e preparo un demo per vedere se fortunato fosse d'accordo a trasmettere un programma da me registrato e da lì lui dopo qualche giorno mi dice di sì e da allora sono partito con questo iter di passione legato alla musica che mi ha portato nel tempo a fare una miriade di programmi per radio splash e per altre strutture concomitanti alla radio e mi ha portato sempre a evolvermi nel nel produrre nel fare produzioni da radio con di tipo di dj set oppure anche spicherati finché sono arrivato alla condizione di voler scegliere un tipo di format che interpretasse in maniera chiara quello che era e probabilmente sarà la mia voglia del gusto musicale più adatto a quello che è il mio spirito ovvero la dance però la dance di qualità non parlo di faccende abbastanza commerciali quello se mi serve lo faccio in giro quando vado a suonare più che altro con un certo prodotto di qualità che interagisse con i generi soul funk disco che sono i generi sostanzialmente più dal mio punto di vista la musica che si balla con il sorriso la disco quella di qualità quindi stiamo parlando della della dance degli anni 70 e 80 anche rivisitata in chiave moderna che comunque continua a mantenere quel quel target di di qualità come la musica degli anni 70 e desideravo proporre questo tipo di format con un nome che proponesse agli stessi ascoltatori un qualcosa di stimolante un qualcosa di tendenzioso un qualcosa di curioso un qualcosa di eccitante ecco perché calcane anche da lì ho pensato tra i tanti nomi che avevo e che ho tuttora in testa perché dalla mia testa passano una miriade di informazioni che non puoi immaginare ho detto eccitante ma cosa c'è più di eccitante della caffeina è uno degli elementi che per vie traverse anche con il caffè certo certo prendiamo giornalmente chi non riesce a dormire chi lo prende la mattina quasi tutti quasi diciamo che ti tenga su ti faccia stare attivo adesso faccio io una domanda a te tu quanti caffè prendi al giorno 221 la mattina e uno dopo quindi hai sostanzialmente una quotidianità parlando di di eccezione parlando di stimolante a proposito eccezione facciamo oggi non presidere uno poco fa qua con franco al coraci qui in regia salutiamo franco che peraltro ci conosciamo da tantissimo tempo e quindi hai una quotidianità abbastanza controllata sì diciamo di sì ecco questo si può anche probabilmente intravedere nella genere del target nel format del programma che propongo il radio su radio splash che si chiama caffeine e che prevede anche tanti collaboratori di cui adesso se mi darai la possibilità io citerò perché voglio assolutamente salutare ma ci mancherebbe comunque come in ogni buon programma che si rispetti diciamo per esempio vedete ma alle spalle ci sono tante tante persone che senza di loro il programma non si sono proprio le fondamenta di un programma quindi fai bene a dare a dedicare a loro un saluto uno spazio quindi prego vincenzo prima di questo sì volevo anche parlarti del dell'altro programma che si chiama cocaine ecco un nome diciamo che può creare discussione ecco ecco sapevo già di questo anche perché ho avuto sai parecchi feedback in questo senso però c'è una cosa che forse tanti tutti non notano che sono caffeine e cocaine ma con la k quindi la k non vuole alludere a nient'altro perché il nome cocaine è stato sviluppato su una eventuale costola cerebrale di caffeine perché su cocaine su caffeine faccio una selezione con portando ogni settimana degli ospiti e facendo loro delle interviste di carattere in merito a ciò che fanno e creando così dei contenuti in merito ai loro alla loro vita le loro attività le loro professioni cocaine è una selection quindi è come se fosse una classifica anche se non parlo mai di classifica perché il nome classifica mi da mi sa di vecchio parlo di playlist parlo di selection sono dieci tracce dove faccio sentire quello che prima passo su caffeine che filtra e va a finire su cocaine come se fossero le dieci tracce più belle dei generi soul funk disco quindi ogni settimana faccio questa selection che va in onda ovviamente sempre su radio splash interessante interessante e tanto tanto è parlato della musica ecco domanda che sembra scontata ma secondo me tanto scontato non lo è ma che cos'è la musica per te beh la musica è senza dubbio l'arredamento della nostra vita qua ci vorrebbe un applauso perché io credo che senza musica questa nostra vita sarebbe veramente non dico inutile ma priva di senso priva di significato priva di quell'arte che riesce a stimolare a risvegliare all'interno del tuo corpo delle delle cellule che ti fanno sentire vivo questo è la musica per me e quando ascolto una traccia nuova vado sempre a cercare di capire se quella traccia se quel brano se quella produzione possa stimolare queste cellule di cui io ti sto parlando ascolto subito sento subito quando c'è un genere o una traccia che non mi piace la scarto subito e vado avanti mentre con le tracce che seleziono nei miei appuntamenti sono delle tracce che sono viste in ottica di uno voler risvegliare questa questa vita che c'è in me perché sono te lo ammetto lo ammetto sono un amante di vita ma questo questo è un punto a tuo favore mi sarebbe scusa e la musica che sia così anzi e la musica mi aiuta tantissimo a sviluppare a risvegliare queste cellule mentre e due vado anche a mettere in concomitanza ciò che ti ho detto anche se la traccia in questione che sento e che farò ascoltare in radio sia sarà di in linea con il con i generi che tratto all'interno del programma che ha prevede diverse rubriche e come ti dicevo vorrei citare i miei collaboratori perché lo meritano perché ritengo che una cosa fatta da solo non riuscirà mai ad arrivare a certe dimensioni una cosa fatta in sinergia con uno staff con degli amici con dei collaboratori che credono in quel tipo di progetto ti possa veramente portare guarda non ti dico a conquistare il mondo perché sarebbe probabilmente la dimensione finale però quantomeno ad avere un minimo di credito di soddisfazione nel volersi nel voler camminare per strada e farti fermare dalla gente e che ti possa dire sai ti ho ascoltato il radio complimenti bella musica esatto questo questa è una la quanto ti può gratificare fare le cose bene però le cose fatte bene come le cose fatte con stile fatto ecco io adesso non voglio assolutamente essere fautore di un qualcosa piuttosto che un altro ma steve jobs quando un giorno ci fu un evento quando parlo di microsoft e asserì beh tutto ciò che fa microsoft non è che non va bene il problema è che microsoft non ci mette gusto quindi è una frase che ti fa pensare quanto le cose da fare nella vita bisogna farle e se se fatte bisogna che si facciano bene e bisogna che si facciano costile sì esatto dare una propria impronta per quanto tante volte le cose fatte diciamo che hanno successo magari possono sembrare anonime ma in questo caso quando io sento una cosa fatta vedo una cosa fatta bene sento l'incezzo carcione alla radio dico è una cosa fatta bene e di qualità soprattutto di qualità anche io vedo su telespazio emilio io probabilmente forse conoscevi cominciato da poco quindi sì 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 ma nel tempo ti parlo per mia modestissima esperienza negli anni per la radio io dovrò avere il piacere a parte di del fatto di associare emilio a telespazio un po come la gente associa a me a radio splash e comunque non c'è altra radio all'infuori di questa per la zona perché se cambio mai un giorno dovrò fare ambisco ad un network non inferiore a dj mai giù ma non è mancanza di umiltà dopo che tu sei consapevole di quello che fa guarda uno tra i miei sogni del cassetto da bambino è stato sempre quello di fare il fonico per un network nazionale bello è bello sono stato qualche anno fa a milano e sono andato nelle vie negli stabilimenti negli uffici sotto nei marciapiede di 105 di virgin che sono peraltro di 101 che sono peraltro un unico gruppo e sono andato anche in via massena da dj e il fatto di stare lì fuori e vedere capire notare osservare attenzionare che lì davanti c'erano i colossi che io nella mia adolescenza o se sentivo via radio e mi hanno fatto provare un'emozione unica così come vorrei anche citare un network che purtroppo non c'è più ma è stato uno dei network più da clubbing più importanti di un certo periodo che era rin ovvero radio italia network una un network di udine che aveva preso piede alla fine degli anni 90 con programmi storici quali los 40 100 per cento rendimento e insomma una radio da clubbing fatta bene ecco questo è uno tra i ricordi più belli della mia adolescenza però purtroppo come tutte le cose belle spesso vanno a terminare comunque adesso volevo finalmente torniamo facciamo un passo indietro siamo sempre andiamo avanti poi torniamo me li sono segnati perché sono un po sì alcuni li conosco quindi sono un bel po allora innanzitutto vorrei salutare calorosamente il mio compagno d'avventura in prima battuta niki niki che conosci benissimo il mio collaboratore per certi versi il disturbatore per certi versi il burlone della della trasmissione e condividiamo spesso sempre tutte le volte che realizziamo il programma dei dei momenti perché insomma ci capiamo al volo se tu avessi qui una figura che ti farebbe da spalla ti renderesti conto quanto fare del broadcast registrare andare in diretta tutto quello che vogliamo ed avere una persona che non puoi in quel momento dire no tu devi fare così tu devi dire colì ma il capirsi al volo un po come quando giochi a carte esattamente i famosi segni ecco noi con i segni ci capiamo ma questo è bello con i segni ci capiamo e si è avviato con niki un rapporto oltre che di amicizia in radio veramente molto bello ed è una coppia che secondo me nella nostra modestia perché io attenzione non ambisco ad essere chissà che non sono nessuno desidero solo ritagliarmi il mio spazio in questa vita non chiedo altro adesso so che già vuoi parlarmi e farmi qualche domanda sulla vita ma sono pronto ma ancora ancora ma c'è tanta carne al fuoco ma ancora ho da salutare gli altri collaboratori nessuno meno degli altri la gabri e la gio che curano uno spazio che si chiama caffeine stories dove ci sono delle citazioni di poeti artisti cantanti politici di qualsiasi tipo e vengono introdotte in voce sul sull'intro delle canzoni delle tracce che passo all'interno del programma eugenio grillo chi non conosce eugenio grillo una figura storica nell'ambito nell'ambito della radio e che ha uno spazio dedicato che si chiama past present future propone una traccia a settimana una canzone che sia il passato il presente il futuro della musica sempre con elevato spessore con grandissima qualità e con lo stile che lo contraddistingue saluto veramente con grande affetto tutti ma in particolar maniera in questo momento eugenio grillo e antonello antonello cappellano antonello cappellano che è anche lui un amico di vecchia data e conobi nella mia adolescenza nella nelle serate che dove io ero presente e spesso abbiamo condiviso tantissimi momenti insieme fino a fino a fare anche un programma intorno al 2008 2009 si chiamava house good perdonami vincenzo peccato che non sia un professore di università perché con te prenderei trentellode ogni volta c'è un piacere ascoltarlo proprio e poi anche la tua voce secondo me diciamo che una persona solitamente se non era un destino e forse il tuo destino anzi tolgo il fox il tuo destino ma sai che c'è questa cosa che me la dicono tutti era segnato adesso continuiamo con i ragazzi ragazzi scusate un attimo devo rispondere ad emilio colpa mia devo rispondere ad emilio non questa cosa no no non è questione di colpa sta cosa della voce me la dicono in tanti mi dicono in tanti hai una voce che ha delle frequenze di una parte di un relax unico concorso ma probabilmente sarà il bilancia ascendente bilancia io con i segni zodiacali sono una chiavica quindi non c'è cosa magari qualcuno che vuole saperlo dei telespettatori prego vincenzo ma guarda io non sono informato in materia di di astri posso solamente dirti che per quanto mi riguarda per come concepisco io la vita il bilancia è di una e di un equilibrio perché di questo si parla unico se poi è ascendente bilancia credo nella mia ignoranza che probabilmente sia un un plus in più al suo al suo tipo di vedere la vita soprattutto tantissime situazioni in cui si deve quanto meno rapportare adeguare adattarsi alla giustizia perché le cose storte non mi vanno proprio giù quindi bilancia ascendente bilancia se qualcuno qualche telespettatore ci sta seguendo ci dica che occorre qualche spettatore pratico in astri ci dica come funziona questa cosa del piacere bila perché io onestamente non non so non sono pratico me faccio me a colpa continuo con l'escursus dei collaboratori di caffeine perché ci tengo in particolar maniera citare tutti perché lo meritano assolutamente vincenzo abbiamo parlato di antonello saluto antonello antonello cappellano che cura uno spazio denominato one house selection e presenta una traccia di genere house e anche the cause settimanale ovviamente e aleandra tania e zamira sono tre ragazze di tre nazionalità diverse aleandra e venezuelana tania e americana di new york e zamira e se non ricordo male e albanese comunque sono in radio perché caffeine a una un'altra costola che è il dj set il dj set dove io non spicherò io faccio un intervento un mixato di circa 40 45 minuti e siccome i mixati nel 2022 via radio sono per certi versi pallosi pensavo a come rendere un dj set un attimino più innovativo un attimino più dinamico un attimino più che possa che potesse stimolare la curiosità di chi lo ascolta quindi mi sono inventato questo format che si chiama caffeine on stage quindi caffeine in scena dove in questi 45 minuti ci sono delle citazioni madrelingua di ognuna di loro tre quindi aleandra che fa le sue le venezuelano in spagnolo scusami perché in venezuela si parla lo spagnolo e tania ovviamente in americano americano posso garantirti molto sì sì ma alla jefferson l'ho sentita l'ho sentita parlare molto e zamira che interviene con la sua lingua quindi ringrazio e saluto queste tre ragazze che loro come altri e altre mi danno l'emozione di voler proseguire con estrema volontà il con estrema passione le mie realizzazioni e saluto anche salvo salvo si tratta di un amico che ho conosciuto da poco tramite nikki e l'ho ingaggiato amichevolmente naturalmente per la parte multimediale lui viene esclusivamente per fare le foto e i video agli ospiti e si mette lì fa i primi piani con grande dedizione e fai video è veramente veramente una persona eccezionale confermo perché lo conosco conosce anche salvo ok saluto salvo e ringrazio anche dj greg dj greg conosciutissimo dj della zona che all'interno del programma presenta una traccia un po più soft con bpm un po più moderati giusto per fare per dare quella diversità al al format perché il format ha tantissime rubriche in due ore di trasmissione faccio tantissime rubriche che vanno a puntellare qua e là le cose che mi piace fare o che comunque potrei fare come ad esempio c'è uno spazio che si chiama italian style dove propongo un refrain di una traccia italiana moderna perché è una delle cose che comunque mi adatto anche a suonare per chi lo voglia nei nei locali qui in giro quindi grazie per avermi dato ma ci mancherebbe questo spazio perché ci tenevo personalmente a salutarli tutti perché se il prodotto fino ad oggi ha un suo perché a un suo ritorno a un suo riscontro e soprattutto grazie a loro grazie ragazzi e grazie fortunato per credere in me e darmi la possibilità di presentare un prodotto quale quello di caffeine e di cocaine adesso ti libero dalle domande easy mano ancora un'altra domanda più che altro di curiosità riguarda appunto ne ha accennato il dj set si quale emozioni cioè ti dà le stesse emozioni suonare davanti a un pubblico magari quando nelle discoteche nei locali e quali stesse emozioni della radio e questa è una domanda sono due cose diverse non noi scaletta mi è venuta così è una bella domanda e una bellissima domanda io ho noto una cosa quando allora io ti con ho la fortuna di conoscere vincenzo fuori dalla sua professione quindi vincenzo carcione di tutti i giorni ed è una persona mite appena lo senti ma quando entra a radio splash conduce le sue trasmissioni e soprattutto io ancora ricordo della scorsa estate che ho detto no quello non è vincenzo invece eri tu quando sei davanti alla console tu sei un'altra persona quindi è un altro vincenzo altre emozioni o sono le stesse della radio diverse diverse sono due emozioni diverse è una bellissima domanda ed è una domanda che merita una risposta convessa ma trasversalmente piena di emozioni perché fare la radio come come sai perché fai la tv e propone e propina dei tempi che devono essere quantomeno commisurati all'ospite che hai davanti e quindi ogni settimana registro una mia parte e poi ne registro un'altra con l'ospite ovviamente io e nikki adeguandoci a chi abbiamo davanti perché c'è magari quello che ha poco da dire c'è quello che è un po più timido c'è quello che è più espansivo e quindi devo quantomeno adattarmi e limitare i tempi dell'intervista ai tempi del programma perché una cosa è che sei in giro e sei libero di suonare da quando inizia quando vuoi una cosa che sei in radio e che come sai in tv ci sono dei tempi ci sono dei tempi e che se non rispetti mandi praticamente a quel paese tutti gli appuntamenti che ci sono dopo infatti se non rispettiamo i tempi io qui c'ho franco regia che tanto mi guarda mi sorride però se vado oltre mi spacco un microfono in testa scherzo non lo farebbe mai ma io noto che franco ci sta osservando ed ascoltando con una notevole curiosità anche perché è da tempo che non ci vedevamo e questo incontro alchemicamente ha veramente e quantomeno ha suscitato in noi un un piacevole risveglio ed è una cosa che mi ha fatto molto ma molto piacere anche a me anche a me mi è piaciuto vedervi ce ne sono arrivato ovviamente come al mio solito in ritardo scusa franco e ho incontrato vincenzo appunto è il nostro caffettavo caffetta caffettava con franco l'editore fortunatamente tutto diciamo la trasmissione iniziata in orario è stato un miracolo scusami vincenzo se ti interrotto prego no 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 e quindi stavo dicendo il discorso dei tempi no ecco quindi in giro la cosa è diversa perché comunque in giro a parte il fatto che io forse da questo punto di vista avrei già notato che io quando sono in giro prettamente in dj set o in live di terzi ma è una cosa mia non che qualcuno me ne voglia non ballo non ballo perché per ballare io si devono verificare due condizioni la prima è che suono io e mi sembra questa abbastanza scontata no diciamo la seconda di che io debba quantomeno trovare un ambiente clubbing di mio gradimento ti racconto questa io in questa estate sono stato oltre a suonare di mio anche a parecchie serate qui in giro il mercoledì se non ricordo male era di mercoledì si andavo in un lido perché c'era sempre per il programma perché registravo l'intervista di un ospite che veniva in questo lido e insieme a nikki insieme alla gabri perché a suo tempo c'era anche la gabri e ascoltavo i dj set di questa gente che comunque le uniche due volte in cui ho ballato è stata sono state per massimo alberti che è un famosissimo dj ex dj di rtl ma continua a fare il dj e tra l'altro lo conoscerai perché è stato e sarà probabilmente al prossimo sanremo massimo alberti spesso ci sono degli spot con 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 amadeus sei perché io onestamente saremo ho letto la lista dei cantanti ma non sapevo non avevo quindi questa una chicca per quanto mi riguarda lo è c'è stata l'anno scorso credo ci sarà nel anche nel 2023 un un frangente dove massimo alberti proporrà poi un suo dj set di circa 10 15 minuti dove farà ballare la gente con musica 70 80 90 comunque un grande dj è stato in estate a bilazzo in un lido è il presente quando tu ti rendi conto di avere davanti il dj cioè tutti fanno il dj con tutte le per carità caratteristiche che possano essere colmabili nel tempo in termini di lacune ma anche di qualità ma quando hai davanti il dj te ne accorgi subito per i tempi di ingresso di un brano i volumi nel mixaggio tra una traccia e l'altra la selezione perché il dj è facile oggi essere dj ti compri una all in one di 2 300 euro e 6 dj il dj non è colui che alza i cursori non è colui che con un tasto con un sync mette due tracce a tempo il dj è comunque chi ha cultura chi mette nel suo lavoro tutto se stesso chi si adatta anche scendendo di livello eventualmente alla gente che ha davanti proponendo una selezione per quel tipo di per quel format di persone che frequentano in quel momento la serata sono tantissime le caratteristiche che fanno di un dj la parola dj affinché si possa attribuire a una persona la parola dj massimo alberti è un dj ma senti una cosa scusami volevo concludere l'altra volta in cui ho ballato sono state due le volte prima è stata massimo alberti e la seconda devo ammettere salutare spero che ci stia vedendo comunque manderò lo streaming daniele tignino by typical e ovviamente tutti conosceranno daniele tignino è un dj rinomatissimo siciliano che ha prodotto tantissime cose ai suoi tate ai suoi tempi underground con i typical che poi hanno sfociato nel commerciale ma di qualità io ho ballato con daniele tignino come un folle prego purtroppo devo stringere con i tempi perché il tempo purtroppo è qualcosa di che non torna indietro ed è purtroppo crudele tante volte volevo farti volevo passare adesso siamo vicino capodanno appunto capodanno mi ricorda una canzone di franco califano io so amici dovete sapere che emilio questa sera adesso l'intervista cambia adesso sono io che intervisto lui non era programmato ovvio è un grande amante di franco di franco califano verissimo verissimo a casa c'ho tutti i suoi leppi tutti tutti per il suo modo di gestire le sue quante donne mille e cinque no io manco una perché sono solo con un cane riusciresti nella tua vita terrena a gestire mille e cinquecento donne per come sono fatto io non credo mille e cinque sono troppe troppe cioè per me però devo anche ammettere che possiedi un tuo fascino ti ringrazio peccato che tante donne non è che comunque torniamo a noi volevo chiederti che periodo della vita stai vivendo sicuramente un periodo di estrema consapevolezza un periodo per certi versi in termini musicali di risveglio un periodo di transizione un periodo che porterà alla definitiva maturità che ancora sicuramente in fase di sviluppo un periodo di crescita che continua a mietere cose belle e cose brutte un periodo di crescita che è di maturità che mi ha indotto a mettere in risalto il significato di una parolina magica che è dai caratteri devastanti questa parolina magica porta il nome di leggerezza 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 in tutto nel fare qualsiasi cosa di vita che non possa portare noie paranoie e problemi perché i problemi della vita sono quelli che non si possono raccontare mentre tutto il resto te la dico ovviamente in maniera molto educata ma il termine sarebbe un altro sono tutte fandonie tutte fandonie che ci creiamo a causa della nostra immaturità a volte nel non aver sviluppato e prodotto quella quel senso di di essere di guardare avanti e di guardare al netto delle cose quello che per noi è importante perché in questa vita lo penso da tempo e lo vorrei sottolineare in questo scorso di trasmissione ma ci mancherebbe nessuno salva nessuno esatto c'è solo una cosa che è veramente importante e questa cosa purtroppo la capiscono in pochi e la capiscono solo dopo determinati frangenti di vita purtroppo drammatici quello che conta è esserci ecco ora capite perché io ho una grandissima per questo per questa persona per quest'uomo viviamo in un'era dove leggo e già a livelli stratosferici questa terra questo mondo questa vita se un giorno dovrà mai finire non finirà mai né per la guerra e né per il covid ma finirà per l'egoismo domanda secca risposta secca è un sentimento più forte l'amore o l'amicizia uguali uguali sì come io concepisco l'amicizia non ha niente di meno all'amore l'amicizia se è amicizia leale vera concreta e soprattutto sincera è come l'amore e sull'amicizia vorrei farti una domanda un po marzulliana e qua mi dovete scusare ma devo leggerla perché è una domanda appunto marzulliana che c'avevo in testa cercando di ricordare a memoria come ho fatto tutte le altre domande a tante volte domande che manco erano in scaletta e devo accelerare perché il tempo stringe vuoi richiederti chi trova un amico trova un tesoro o chi trova un tesoro trova tanti amici sicuramente chi trova un amico trova un tesoro ma deve essere mi viene da pensare qui alla frase alla mood del signore degli anelli il mio tesoro detto questo chi trova un amico sicuramente trova un tesoro però deve essere un amico con la a maiuscola vedi credo in maniera molto incomiabile che la gente non cambia in qualsiasi previsione di qualsiasi tipo di rapporti però un'amicizia vera leale sincera è veramente un tesoro ma deve essere vera perché quando è un'amicizia legata a certi parametri intenzionati al proprio egoismo oltre che io personalmente comunque lo noto e lo noto perché sono da mio carattere sono un perfetto difettoso e noto tutto e tutti i dettagli sono per me elementi di rappresentazione della persona che ho davanti ma io ho sempre avuto e continuo ad avere nel mio rapporto con gli altri un senso di lealtà mirato alla al voler andare avanti insieme ed è per questo che ti dico vedo che dobbiamo stringere concludo ed è per questo che ti dico che chi trova un un amico trova veramente un tesoro ma è importante che l'amico che si rapporti con te debba quanto meno fare di tutto per dare il massimo di se stesso o di se stessa per cercare di essere altra parolina magica pesante riconoscenza tante volte manca ed io concludo emilio ti sono veramente riconoscente e a dir poco grato per avermi dato la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con te e con gli amici di telespazio e sicuramente ci rivedremo ci rivedremo presto o su splash o qui comunque ci rivedremo un'ultimissima cosa la gente come potrebbe come può anzi contattarti perché è giusto mi sembra giusto dare anche diciamo perché no utilizzare il mezzo televisivo per pubblicizzarsi e onestamente guarda io ti conosco oltre professionalmente che ti conosco appunto per la persona che sei e secondo me meriti il tuo spazio e quindi più possibile diciamo pubblicizzarti anche qui sui canali del spazio prego vincenzo grazie grazie ho un sito web vincenzocarcione.com non abbiamo detto anche se questo è un po marginale in verità però il mio primo lavoro faccio l'informatico purtroppo ci siamo messi a parlare maledetta musica faccio l'informatico faccio l'informatico quindi ho un sito dove è un blog informatico dove all'interno ci sono tutti i podcast dei programmi che realizzo per la radio più tutti gli eventi che mi vedono protagonista nelle location nei locali che mi ospitano vincenzocarcione.com su facebook vincenzo carcione sia pagina di facebook aziendale sia profilo personale su instagram vincenzo punto carcione e io non posso far altro che ringraziarti della tua compagnia veramente 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 bello veramente io sono veramente divertito perché ascoltarti sai cos'è quel fatto tuo che non sei per nulla banale tutto quello che dici lo dici con sentimento non lo dici tanto per dare così per dare fiato quindi ogni tua parola ogni tua frase è da apprendere sarà il bilancio ascendente bilancia sicuramente sicuramente grazie a che grazie grazie a tutti grazie a te emilio grazie a franco grazie a tutti gli amici gli spettatori di telespazio vi potrete sentire su radio splash un bacio a tutti e un abbraccio a tutti grazie e da me non resta che augurarvi un buon perché questa è l'ultima puntata del 2022 quindi non mi resta che augurarvi un felice 2023 e che il domani sia il vostro tempo migliore ciao